Ben trovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Anche si parlerà di una seduta straordinaria, questo è il primo tema. Infatti modifica la legge sul bollo auto, eliminare le agevolazioni per le auto a noleggio e esenzione delle auto mediche, approvata maggioranza nella seduta straordinaria. E poi si fa anche il bilancio sul secondo anno di legislatura con il Presidente che parla che per il risparmio energetico c'è la chiusura di una delle sedi del Consiglio per due giorni la settimana. Il primo tema è quello riguardante la seduta straordinaria di mercoledì 2 novembre per l'esame della proposta di legge sul bollo auto. Disegni di legge, prevede l'eliminazione delle agevolazioni per il noleggio senza conducente, resta sospeso il pagamento per i veicoli consegnati per la rivendita e oltretutto viene formalizzata l'esenzione invece per le auto mediche al pari dei veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto. Il Consiglio regionale quindi approva a maggioranza le modifiche di legge sulla tassa automobilistica regionale, sono stati anche approvati degli emendamenti in aula presentati dal Presidente della Giunta Eugenio Gianni, il provvedimento passa con 22 voti a favore quelli del Partito Democratico e 14 voti contrari, ovvero Italia Viva e tutti i gruppi dell'opposizione, Lega Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Visto, Toscana domani. Si è arrivati al Consiglio straordinario perché deve essere pubblicata la modifica perché entra in vigore dal 1 gennaio entro il 10 novembre con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, quindi oggi era il giorno utile per poter avere i tempi poi non solo di approvarlo ma di pubblicarla sul bollettino ufficiale della Regione. Si è fatta molta agitazione su questo ma in realtà era una motivazione molto semplice, non c'era un'urgenza per accorciare i tempi del dibattito ma solo per quello che ci richiede la legge. Bollo auto per tutti i cittadini rimarrà per l'anno prossimo esattamente quello che è ora. La modifica va a incrementare invece il bollo auto degli utilizzatori dei mezzi a noleggio. Quindi una nicchia, una categoria molto precisa. Perché? Perché è cambiata la legge a livello nazionale invece che le imprese proprietarie dei mezzi che vengono messi a noleggio la pagheranno gli utilizzatori e conseguentemente se alle imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione che poi le teneva in Toscana altrimenti le agevolazioni magari le trovavano in altre regioni e quindi con un vantaggio da parte della Regione nel momento in cui cambia la legge nazionale a pagare il bollo sono gli utilizzatori allora è giusto che paghino quanto pagano gli altri proprietari ovvero tutti i cittadini che hanno la loro auto. Quindi è stata semplicemente un'operazione di perequazione fiscale. Sono tre le novità che vengono introdotte nella disciplina del bollo auto. La prima, la più significativa in termini numerici riguarda il noleggio a lungo termine senza conducente. Nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni, di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente. Queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale. Anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo ma direttamente dall'utilizzatore. Pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana venga corrisposto analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli il bollo direttamente alla regione toscana. Dall'altra parte però c'è anche un altro importante cambiamento che riguarda le automediche. Non soltanto quindi le auto adibite ad ambulanza godono dell'esenzione dal bollo ma grazie a questa legge l'estensione viene fatta anche alle automediche e da ultimo si stabilisce l'effetto automatico della sospensione del pagamento del bollo al momento della trascrizione della cessione alle imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli. Una volta era necessario avviare un iter amministrativo per poter godere della sospensione del pagamento della tassa con i diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti per poter affruire di questa sospensione. Oggi al momento della trascrizione della cessione automaticamente si produce l'effetto sospensivo. Quindi da una parte abbiamo 9 milioni e 200 mila euro di gettito in più sul bollo che vengono dall'applicazione del bollo anche alle auto che sono a noleggio senza conducente. Dall'altra però ci sono minori entrate ad esempio per l'estensione alle automediche o ancora per questo effetto sospensivo immediato per le imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli di 200 mila euro con un saldo quindi di 9 milioni di euro in più derivanti dal gettito del bollo auto. Allora intanto a beneficio di chi ha seguito questa discussione va detto punto primo è stato chiesto un consiglio straordinario di urgenza quindi convocato di proposito con i costi che ha un consiglio straordinario la motivazione e la richiesta di urgenza da parte del Presidente Gianni era la necessità di adeguarsi ad una legge, la legge numero 504 del 1992. Cioè è dal 1992 che le tariffe del bollo auto si fissano entro il 10 di novembre il Presidente Gianni il 2 di novembre si rende conto di non aver fatto l'adeguamento delle tariffe del bollo auto e convoca un consiglio di urgenza per farlo il 2 di novembre. Primo punto. Secondo punto cosa si va a fare? Si va a stabilire che in Toscana dal primo di gennaio del 2023 chi ha un'auto a un noleggio a lungo termine dovrà pagarci sopra il bollo auto. Cosa che fino ad oggi questo non veniva fatto. Chi è che ha auto con il noleggio a lungo termine? Professionisti, imprenditori, partite IVA. Categorie che mi pare che negli ultimi anni di vessazioni ne abbiano già avute abbastanza. Queste figure dal primo gennaio del 2023 dovranno pagare anche il bollo auto. Terzo punto che forse è quello più strano diciamo che alimenta questa discussione. La regione toscana aveva la possibilità, la regione toscana grazie a questa modifica normativa andrà ad incassare nel 2023 9 milioni di euro in più rispetto al passato che destinerà al comparto della sanità. Tutto bene. Allora noi ci chiediamo cos'è successo nel 2022. Perché cos'è successo alla sanità toscana nel 2022? E perché questa domanda? Perché la legge che permetteva alla regione toscana di incassare questi 9 milioni di extra cedito è la legge di stabilità del governo del 2019 in vigore dal primo gennaio 2020. Cioè la regione toscana ha recentemente scelto di non incassare questi 9 milioni di euro nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Andando ad incassare nel 2023. Quindi o nel 2022 è successo un cataclisma nella regione toscana, nella sanità toscana per cui servono 9 milioni di euro in più e il presidente Gianni ci deve spiegare cosa è successo. Oppure il presidente Gianni ci deve spiegare perché ha rinunciato ad incassare 27 milioni di euro tra il 2020 e il 2022. O ha perso 27 milioni o quest'anno è successo un cataclisma per il quale il prossimo anno servono 9 milioni in più. A questa domanda nessuno ci ha risposto. La giunta regionale evidentemente ha bisogno di andare a cercare delle risorse finanziarie perché è l'unico modo con cui si giustifica la fretta e il modo con cui in questo momento sono andati a mettere le mani nelle tasche di partite IVA, piccolissime imprese fatte anche da una sola persona che sono quelli del noleggio auto a lungo termine ad esempio per ricavare 9 milioni di euro che mi viene da pensare sono quasi la stessa cifra che un anno fa era stata data a Toscana aeroporti come ristoro e sarò poi sapere che erano stati divisi gli utili da quel punto di vista. Un'altra cosa molto curiosa è che vengono chiesti questi 9 milioni in più dalle casse che vengono comunque sono mani in tasca che vengono messe a una categoria che lavora e che produce ma non si sa come vengono finalizzati e soprattutto viene da pensare se la regione non abbia trovato altro su cui risparmiare o su cui riuscire a incassare maggiormente e a questo punto viene da fare due riflessioni. I rumors riguardo il buco di bilancio che ci aspetterebbe a fine anno per la sanità continua a essere sempre più forte e consistente e il dubbio è che siano diciamo un bicchiere di acqua in mare per cercare di andare a colmare questo buco. L'altro pensiero che ci viene da fare riguardo a questa iniziativa a questa presa di posizione diciamo della regione toscana riguarda il fatto che le cifre che vengono cercate non sono state vincolate in nessun modo quindi la regione oggi ci dice che ha trovato dove esigere 9 milioni di euro in più dai toscani, da una categoria di toscani ma non ci dice come le vuole spendere e il sospetto è che in realtà ci sia dietro un problema più grosso di quello che in questo momento appare. C'è molta confusione, c'è anche divisione all'interno della maggioranza, abbiamo visto Italia Viva che non è stata a votare questo provvedimento e consideriamo invece che la Lega è riuscita a far approvare un proprio ordine del giorno per il sostegno alle famiglie con minore a carico con gravi disabilità. Questa è la Lega del fare. Noi cerchiamo di dare risposte, cerchiamo di analizzare compiutamente i provvedimenti che vengono da una giunta invece che è sempre più in stato di confusione e l'arroganza ha la meglio rispetto a quello che potrebbe essere il buonsenso, il dialogo con lui. Noi avevamo detto fin della settimana scorso che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione, quella condizione che queste risorse siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti, da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto a noleggio, potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette, al caro energia, riteniamo che questo sia una cosa ingiusta, non servono queste risorse per pagare il buco della sanità, se questo c'è deve essere spiegato se esiste o se non esiste e quindi su questo ci chiediamo chiarezza ovviamente alla maggioranza di governo in regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori, sui nostri principi, insomma si può perdere una battaglia in aula ma non si può perdere la dignità, quindi per noi questa imposizione fiscale non esiste perché altrimenti queste risorse andavano destinate qualora si voleva aumentare le tasse soltanto a favore delle imprese. Il lavoro del secondo anno di attività del Consiglio è stato illustrato in conferenza stampa, sono stati importanti i numeri dell'attività istituzionale da ottobre del 2021 fino a ottobre 2022, 45 sedute dell'Assemblea con un tasso medio di presenza dei consiglieri del 96,8%, 74 atti e trattati dei quali 46 approvati, 117 proposti di deliberazione di cui 98 approvate, 411 mozioni delle quali 127 approvate, 96 risoluzioni delle quali 40 approvate e 124 ordini del giorno di cui 42 approvanti. Due comunque le tematiche ricordate nella conferenza stampa, giovani e ambiente. Sul fronte dell'ambiente il lavoro del Consiglio si concentrerà sul risparmio energetico. Sono stati due anni complessi anche per noi, due anni in cui abbiamo cercato di restare all'altezza degli occhi delle persone, dei loro bisogni, lo abbiamo cercato di fare tutti insieme come ufficio di Presidenza, farlo indipendentemente dai nostri schieramenti politici di appartenenza con l'unico obiettivo cercare di rendere questo luogo un luogo aperto in cui i cittadini si sentissero a casa, in cui conoscere quello che era il nostro lavoro, un lavoro importante, le presenze dimostrano anche il lavoro dei colleghi consiglieri, quasi il 96% di presenze da remoto o in presenza che danno il segno di una grande attenzione al ruolo che ciascuno di noi è chiamato a svolgere. Noi in questi due anni abbiamo deciso di investire molto sui giovani, quelli che hanno sofferto di più durante questa fase di pandemia. Penso al bando sulla rigenerazione urbana, hanno partecipato quasi il 70% dei comuni della Toscana, ognuno con un progetto rivolto alle ragazze e ragazzi. I nostri gonfalloni d'argento, che sono il massimo riconoscimento, sono andati proprio soprattutto a giovani, a giovani impegnati, a giovani che hanno portato in alto il nome della Toscana nel mondo. Oggi noi vogliamo rilanciare la nostra azione tutti insieme. Nel prossimo ufficio di Presidenza, in accordo tra tutti i membri dell'ufficio di Presidenza, darò anche delle deleghe in maniera tale che ognuno possa fare il proprio lavoro, meglio, possa aiutarmi, coadjuvarmi ancora di più in questo lavoro che abbiamo di fronte a noi. E vista la situazione complessa che sta vivendo il Paese dal punto di vista energetico, così come hanno fatto anche altre realtà, a partire dal Comune di Firenze, nella prossima seduta dell'ufficio di Presidenza penseremo anche ad una riorganizzazione che prevederà la chiusura del Palazzo al numero 18 ogni lunedì e il venerdì in maniera tale da dare anche noi il nostro contributo per la riduzione del costo dell'energia che tocca davvero tante famiglie su cui noi sentiamo tutta la responsabilità. Chi i dipendenti che non lavoreranno con i due giorni smart working avranno delle postazioni in cui potranno lavorare anche in presenza qui nel Palazzo 2 o nel Palazzo Civico numero 4. Insomma è un modo per dare anche noi il nostro contributo in questa situazione. In questa veste di Vice Presidente del Consiglio regionale devo dire che noi abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, l'ufficio di Presidenza ha guidato dal Presidente Mazzeo, sta lavorando bene, ha fatto degli investimenti importanti per consentire al Consiglio di lavorare in maniera migliore, di relazionarsi con i territori. Dobbiamo crescere a mio avviso nella possibilità di incidere con progetti di legge e di iniziativa consigliare, cioè i consiglieri regionali devono essere a mio avviso sempre di più consiglieri regionali della Toscana, sempre meno dei loro territori, dentro le relazioni con i propri territori devono avere la forza di incidere in proposte di iniziative anche autonome, al cospetto delle funzioni di governo che sono quelle che competono la Giunta, la nostra funzione di rappresentanza deve crescere con delle autonomie di carattere finanziare e continuare in queste iniziative che vede il Consiglio regionale essere al fianco dei giovani toscani, sempre di più identità toscana, sempre di più partecipazione e sempre di più coinvolgimento delle nuove generazioni. Sono stati due anni difficili, stiamo ancora a lottare contro questa pandemia e soprattutto oggi c'è il problema del rincaro dei costi energetici, dobbiamo assumerci responsabilmente il nostro compito di rappresentare gli interessi dei toscani, ora anche nei confronti del nuovo governo di Roma. Credo fortemente nell'autonomia e come tale non posso che rivendicare tutto ciò che possa essere di utilità al mio territorio, al nostro territorio toscano. Credo che il tema dell'autonomia, del regionalismo differenziato debba essere portato avanti con convinzione dal Consiglio, dalla stessa Giunta, occorre investire in termini di sostegno alle attività produttive che sono veramente in difficoltà. Il Consiglio regionale deve essere sempre più aperto al mondo esterno. Abbiamo fatto tante iniziative e dobbiamo continuare a farne, proprio per cercare di avere un rapporto diretto con le associazioni, con le istituzioni. C'è un grande mondo fuori che vediamo purtroppo in difficoltà e noi dobbiamo essere degli strumenti umili e utili per portare avanti gli interessi dei toscani. E si conclude il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutte le informazioni www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua, tra sette giorni, Dentro il Consiglio. Grazie a tutti.